Tutorial per iscriversi al servizio MyPrint Andare sul sito unipd.albamyprint.it Create l'account che avrà come username la propria mail Impostate una password che abbia queste caratteristiche sulla destra Accettare le condizioni Inserire il codice di sicurezza E fare crea account Appare un messaggio sullo schermo E adesso arriverà una mail nella quale ci sarà il link per attivare l'account Per cui accedere alla mail Mi è arrivata da MyPrint Copiare il link Una volta attivato l'account vi arriverà una seconda mail All'interno c'è il proprio ID personale Un codice di otto cifre che vi servirà per associare il proprio badge universitario All'account MyPrint Rimane solo l'ultima operazione Avvicinarselo da una qualsiasi fotocopiatrice E poggiare il proprio badge nell'area indicata Quindi inserire il codice ricevuto per email Potete utilizzare tutte le stampanti multifunzioni Che hanno questo adesivo qui Avvicinare il badge alla fotocopiatrice Poggiarlo in quest'area Ed inserire il codice di otto cifre che vi è arrivato per email Premere ok Perfetto L'associazione è avvenuta correttamente Qui è indicata la mia mail Perfetto